Aveva a reso un nuovo articolo e quarto del Venetica Blog, di quel che aveva esistuto fin adesso. La digitalizzazione del testo di questo articolo è di giugno 2021 del Lunaro Veneto, riproduzione autorizzata dall'Accademia della Buona Crianza. Il titolo è di Veneti e l'Automotive, Fornassai 99 e il Sud Veneto. Il Fornassai 99 è stata una vettura artesanale, sviluppata nel 1998, che per il suo caratteristico e tecnico ha potuto essere in retenuta il primo sud sportivo della storia automobilistica, in anticipo di 5 anni rispetto al Porsche Cayenne Todesco. Ma è stata fatta a sud dall'azienda Fornassai, una casa automobilistica artesanale del russo. Fondata a Vicenza nel 1999 dall'imprenditore Veneto Giuseppe Fornassai, con la sede a Montevero-Visentino e durata fin al 2015. Il modello 99 montè a motori merenghane Chevrolet V8, con potenze fino a 700 cavalli, che in centrali interontellano in tubi di rega di assaro, con carrosseria in fibra dell'ero e trazione integrare, rispenseva la vettura veneta fin ai 280 km all'ora. La velocità massima è con 3,8 secondi per fare 0-100 km all'ora. L'articolo si è finito, dunque se vi piace mettere i piace cliccando il dedo in su e il pollice in su e iscrivervi se volete al canale. E intanto vi asso il link dell'articolo, così potete vederlo. Alla prossima artigolo.